L'acclarata inagibilità dello Iacovone causata dai danni provocati dal maltempo alla copertura della tribuna centrale costringerà i Rosso-Blu a disputare la gara di domenica prossima contro il Real Aversa lontano dalla struttura del rione Salinella. Lo stadio prescelto dal club Ionico e il Teresa Miani di Ginosa, impianto nel quale Marsili e compagni hanno disputato un allenamento congiunto la scorsa estate, la notizia ufficiale del campo neutro è giunta nel pomeriggio di martedì attraverso un comunicato stampa diramato dal club. Intanto gli Ionici hanno ripreso la preparazione proprio in vista del match contro i Campani, lavoro differenziato per i difensori Anver, Boccia e Ferrara, per il centrocampista Matute e l'attaccante Falcone, tutti calciatori che il tecnico La Terza spera di recuperare già da domenica prossima.